ciao a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce il mio nome è Rossella Pani io sono una maestra di riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce con l'arcangelo Michele benvenuto e benvenuta e complimenti per esserti registrata per guardare questo training in questo video ti mostrerò qualcosa di veramente potente che ha cambiato completamente la mia vita e sta cambiando la vita ad altre persone scopri i quattro segreti sconosciuti al 97 per cento dei facilitatori del riequilibrio energetico per connetterti con le frequenze di luce più elevate facilitando così nei tuoi clienti vere e proprie trasformazioni in tutti i livelli fisico mentale emozionale e spirituale attraverso la protezione dell'arcangelo Michele e senza assorbire i pesi degli altri prima di parlarti della singola cosa più importante vorrei chiedervi gentilmente di eliminare ogni distrazione per ricevere il massimo da questa presentazione la singola cosa più importante è che si tratta di un nuovo livello vibratorio a cui tutti possono accedere facilmente che può portare equilibrio in tutti i livelli fisico mentale emozionale e spirituale vorrei parlarvi di diletta ad olivo una mia studentessa che ha avuto dei risultati straordinari con i propri cari e i propri clienti lei ha ricevuto la chiamata della parte dell'arcangelo Michele si è sentita chiamata proprio perché cercava uno strumento di riequilibrio energetico potente ma che allo stesso tempo fosse protetto pensate che ha avvertito fin dall'inizio un forte potenziamento delle energie sentendosi radicata la terra e protetta al 100% imparando tutto sulla protezione psichica con l'arcangelo Michele vorrei anche parlarvi di me a soli tre mesi dal mio primo seminario ho facilitato il riequilibrio su mio padre che ha avuto un risultato straordinario ma vi parlerò di questo più avanti uno dei problemi e degli ostacoli più grandi dei facilitatori del riequilibrio energetico potrebbe essere uno dei seguenti casi se una persona empatica sensibile alle energie e hai paura di assorbire i pesi e le energie negative degli altri durante le sessioni di riequilibrio energetico oppure hai delle doti naturali senti l'energia nelle mani come il prana ma non sai come praticare la pranoterapia oppure quando devi proporre un metodo di riequilibrio energetico non sai che prezzo far pagare hai paura di chiedere un compenso per le sessioni date offerte oppure ti viene difficile far capire alle persone che alcuni trattamenti funzionano benissimo anche con la distanza e che non è necessario farlo in presenza ancora ti viene difficile spiegare i nuovi metodi di riequilibrio energetico alle persone con cui vieni in contatto non sei sicura di sapere abbastanza non riesci ad esprimerti e senti che sicuramente ti mancano le basi e senti che ti serve un coach per l'insegnamento oppure senti che forse hai bisogno di guarire prima te stessa così dopo potrai aiutare gli altri hai delle resistenze al meritare e all'essere degna di ricevere abbondanza senti ostacoli nel ricevere l'abbondanza non sei sicuro sicuro che anche tu puoi sentire l'energia nelle mani e che puoi trasmetterla alle altre persone oppure non sei sicura o sicuro che le persone possono ricevere un reale beneficio dal riequilibrio energetico se ti stai ponendo anche solo una di queste domande ebbene sei nel posto giusto vediamo cosa andremo a vedere oggi l'elemento numero uno in assoluto più importante che riguarda il riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce con la protezione dell'arcangelo michele che può portare vere trasformazioni in tutti i livelli fisico mentale emozionale spirituale i cinque errori più comuni commessi dai facilitatori del riequilibrio energetico che una volta risolti grazie al cambiamento del tuo mindset ti consentiranno di smettere di sentirti in colpa ed iniziare finalmente a sentirti degno degna e meritevole di ricevere abbondanza infinita ancora come diventare un canale pulito attraverso la più potente tecnica di purificazione giornaliera di chakra per radicare la tua energia fino al centro della madre terra consentendoti di sentirti centrata radicata e in equilibrio ancora i quattro segreti sconosciuti al 97 per cento dei facilitatori del riequilibrio energetico empatici o sensibili alle energie che una volta applicati ti permetteranno di accedere alle frequenze di luce più elevate casi studio come tutti i miei studenti e le studentesse nei miei seminari nei miei corsi online hanno avuto accesso alle nuove frequenze di luce facilmente ricevendo vere e proprie trasformazioni e ritrovando maggiore equilibrio abbiamo ancora dei bonus una sorpresa speciale gratuita che rivelerò alla fine di questa presentazione del valore di ben 600 euro e molto molto di più sei pronto sei pronta perché dovresti prestare attenzione a questa presentazione ti parlo un po di me nel 2009 ho iniziato a sviluppare le mie capacità di sentire l'energia nelle mani e di percepire le energie sottili delle persone degli ambienti intorno a me questo è accaduto dopo un'esperienza di una gitta alle tombe dei giganti ho iniziato veramente a sentire l'energia degli ambienti l'energia delle persone le energie anche invisibili agli occhi ordinari per così dire ai sensi ordinari e questo ha creato in me una sensibilità superiore che mi consente di aiutare le altre persone ma che in quel momento era veramente un dono più grande di me perché non riuscivo a gestirlo perché non sapevo come proteggermi fondamentalmente a partire da marzo del 2010 ho studiato il riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce con eric pearl e ho frequentato nove dei suoi seminari dal vivo in italia e in europa nel 2012 ho lavorato nel team della the reconnection come mentore in training ed insegnante assistente dopo soli tre mesi dal mio primo seminario con le nuove frequenze di luce ho facilitato il riequilibrio energetico su mio padre che si è ripreso subito dopo aver avuto un'ischemia sembra incredibile però è successo veramente ricordo che mi trovavo ad alghero mia madre mi chiamò disperata dicendomi che mio padre aveva avuto un'ischemia la prima cosa che feci è stata quella di prendere una foto e di facilitare l'equilibrio energetico con la foto dopo una preghiera sincera rivolta a dio agli angeli all'arcangelo michele senti una voce interiore che mi disse che sarebbe andato tutto bene pensate che ho dovuto guidare dal ghero fino ad ozzieri è un paese che si trova a 80 chilometri dalla città di alghero dove abitavo ho sentito una pace che mi ha accompagnato in tutto il viaggio e quando sono arrivata all'ospedale mio padre non era ancora disteso sul letto ma su una brandina in questa brandina si trovava al centro della stanza tutti i miei parenti erano lì disperati io sono arrivata con una pace quasi non spiegabile razionalmente ma ho voluto fidarmi di questo mio sentire mi sono seduta vicino a mio padre ho preso la sua mano tenuto la sua mano e ho trasmesso le frequenze senza dare all'occhio ma ho trasmesso le nuove frequenze di luce e praticamente dopo pochi minuti mio padre è stato sistemato sul lettino ha iniziato a muovere la mano destra il braccio destro la gamba destra e pensate che i medici stavano già preparando mia mamma dicendole che ci sarebbe voluto almeno un anno di fisioterapia per poter riprendere i movimenti per poter riprendere la parola e così via e invece dopo una settimana mio padre era fuori dall'ospedale diciamo che questa esperienza chiamiamo chiamiamolo caso in realtà il caso non esiste però questa esperienza ha completamente cambiato la mia vita il mio modo di percepire la realtà e praticamente ho deciso di dedicarmi completamente allo studio delle nuove frequenze di luce ma non solo ho anche approfondito il tema degli angeli ho studiato con i più grandi esperti di angeli in quel periodo era molto diciamo era molto molto conosciuta ad or in virtù e ho partecipato a tre dei suoi seminari il mio il primo seminario è stato a riccione nel 2012 il secondo a londra nel 2014 il terzo a maui nel 2016 diventavo sempre più sensibile alle energie e ho dovuto interrompere la mia pratica come facilitati come facilitatrice scusate del riequilibrio energetico perché perché assorbivo il peso energetico delle altre persone quindi cosa è successo che a partire dal 2013 ho trascorso tre anni in preghiera e meditazione con l'arcangelo michele che mi ha trasmesso degli insegnamenti fondamentali tra cui l'importanza della protezione energetica ma non solo della purificazione della liberazione e del radicamento sotto consiglio dell'arcangelo michele ho creato così un nuovo modo di lavorare un lavoro tutto mio un lavoro personalizzato a questa mia nuova sensibilità per così dire consentendomi così di aiutare le altre persone ok senza assorbirne i pesi energetici e questo è stato grazie alla protezione psichica con l'arcangelo michele negli ultimi sette anni ho lavorato con più di 800 persone tra sessioni private seminari in presenza e nei corsi online sempre dal vivo ma online vorrei presentare ricordiamoci che tutti possono accedere facilmente a queste nuove frequenze di luce vediamo alcune delle numerose testimonianze abbiamo mariana tushuk nonostante le resistenze iniziali a partecipare al percorso online di guarigione è riuscita ad accedere facilmente alle nuove frequenze di luce sentendo nell'immediato un forte calore nelle mani passando da un forte senso di tristezza interiore ad una vera e propria trasformazione immediata che le ha donato felicità pace serenità mai sentite prima sentendosi in un livello più elevato nella propria frequenza vibratoria daniela zambelli che già praticava altre tecniche di riequilibrio energetico grazie a questo lavoro ha riscontrato un grande potenziamento dell'energia che non si aspettava rimanendone molto colpita ha ricevuto maggiore consapevolezza e più allineamento cambiando la propria prospettiva angela guerra angela ha compreso durante il percorso di coaching di due mesi che questa è la sua strada per lei è stata un'esperienza molto forte ha preso maggiore consapevolezza e riscoperto i propri talenti e capacità sente nel cuore che può fare del bene attraverso le nuove frequenze di luce ha ricevuto intuizioni saggezza e fiducia consiglia questo percorso a tutti coloro che sentono di avere una missione cristiane rancan durante il seminario dal vivo online ha imparato velocemente a connettersi con le nuove frequenze di luce sentendo delle onde energetiche pulsazioni aria calore e altre sensazioni nelle mani in tutto il suo corpo acquistando maggiore consapevolezza dell'energia e sentendosi più connessa con se stessa e col tutto giovanna calcagno neofitta in questo lavoro giovanna è rimasta entusiasta dei risultati che ha ottenuto su se stessa e sui propri cari fa notare come le preghiere portano il riequilibrio e come le frequenze innalzano la vibrazione che porta a stare meglio nella vita di tutti i giorni raffaella de michelis maestra di altre modalità energetiche è rimasta entusiasta da questo lavoro considerandolo un lavoro molto potente ha notato un'amplificazione del suo sentire delle sue percezioni ricevendo una forte pulizia energetica grazie al lavoro con l'arcangelo michele loretta agresti considera questa esperienza come unica nel suo genere ha provato un'emozione fortissima quando ha sentito le nuove frequenze molto chiaramente nelle sue mani nonostante si trattasse di un corso online dal vivo è rimasta sorpresa su come le nuove frequenze fossero più potenti con la distanza naturalmente vorrei dirvi che queste testimonianze le potete trovare in formato video e audio quindi con la voce reale delle persone che stanno portando queste testimonianze nel mio canale youtube connessioni angeliche la versione integrale di ogni singola testimonianza vediamo i cinque errori del facilitatore del riequilibrio energetico errore numero uno non purificarsi prima di facilitare una sessione di riequilibrio energetico diciamo che imparare la purificazione energetica prima di ogni sessione di riequilibrio energetico è fondamentale per sentirsi centrati e radicati è come fare una doccia spirituale questo ci consente di essere nel nostro pieno potere e questo ci consente di trasmettere le frequenze di luce più elevate bisogna essere dei canali puliti per facilitare il riequilibrio energetico sulle altre persone è una responsabilità errore numero due non usare la protezione psichica prima di facilitare il riequilibrio energetico sulle altre persone molti facilitatori del riequilibrio energetico non utilizzano alcuna protezione o utilizzano delle protezioni che non sono complete ok e questo cosa fa cosa cosa succede succede che l'operatore rimane scoperto e rischia di assorbire i pesi energetici dalle altre persone pensate che quando non mi proteggevo durante le sessioni di riequilibrio energetico le persone che trattavo stavano bene io prendevo i loro pesi e questo mi faceva stare male mi scaricava energeticamente poi ci volevano due tre giorni di grande lavoro di preghiere di meditazione per recuperare le forze per così dire ok errore numero tre sentirsi in colpa quando le trasformazioni non avvengono come vorremmo noi e qui subentra l'ego come facilitatore del riequilibrio energetico sei un intermediario per queste meravigliose frequenze la trasformazione arriva nella misura in cui l'anima del ricevente sceglie di riceverla come facilitatori noi possiamo solo osservare ed accettare ciò che arriva sapendo che per il massimo bene di tutte le persone coinvolte la trasformazione non dipende dalla tua volontà l'ego deve essere messo fuori ok poi andremo a vederlo nello specifico però ci sono due forme di ego fondamentalmente c'è un ego superiore un ego inferiore l'ego superiore si prende la persona si prende tutti i meriti quando arrivano delle trasformazioni meravigliose straordinarie ed è sbagliato anche questo perché non sei tu e l'intelligenza dell'amore universale che facilita il riequilibrio energetico lo stesso vale quando noi quando abbiamo il cosiddetto ego inferior quando non ci sentiamo all'altezza quando magari una persona non riceve la trasformazione che si aspetta allora noi entriamo nel senso di colpa ci sentiamo inadeguati ci sentiamo non meritevoli e non degni non è così ripeto è sempre l'amore divino è sempre l'anima del ricevente che sceglie cosa è giusto per lui cosa è giusto per lei e per il suo massimo bene errore numero 4 non riuscire a chiedere un compenso per le sessioni di riequilibrio energetico o farle pagare a basso costo molti operatori della luce e facilitatori del riequilibrio energetico devono sciogliere i voti di povertà e cambiare i propri sistemi di credenze che gli stanno impedendo di ricevere l'abbondanza infinita che meritano e di cui sono degni per diritto di nascita molti operatori facilitatori del riequilibrio energetico hanno difficoltà a chiedere dei soldi quando quando offrono delle sessioni di riequilibrio energetico ricordiamoci che c'è il tempo che noi dedichiamo nel facilitare queste sessioni c'è tanto lavoro spirituale c'è tanta preghiera c'è tanta purificazione c'è tanto lavoro per poter essere dei canali puliti per poter essere in grado di trasmettere il massimo potenziale di queste meravigliose frequenze e quindi è giusto ricevere un compenso naturalmente quel compenso nascerà dal tuo cuore sarà la cosa giusta per entrambe le parti deve essere in perfetto equilibrio tra il dare e il ricevere ci vuole un momento per dare un momento per ricevere equilibrare queste due forze il divino maschile rappresenta il dare il divino femminile rappresenta il ricevere con queste due forze vanno portate in perfetto equilibrio ed armonia è lì che l'operatore il facilitatore della guarigione si sente appagato si sente meritevole si sente degno di ricevere l'abbondanza che merita e di cui è degno appunto per diritto di nascita naturalmente bisogna sbloccare le credenze limitanti eliminare i blocchi le paure e anche i sistemi di credenze che ci hanno un po imposto la società o comunque che possono anche derivare dai nostri antenati diciamo che queste credenze vanno vanno eliminate per poi essere sostituite con con dei valori potenzianti per così dire ok errore numero 5 molti operatori di luce facilitatori del riequilibrio energetico hanno delle forti resistenze nell'investire nella propria formazione ci sono molte persone molti persone nell'olismo che hanno difficoltà ad investire dei soldi nella propria formazione sempre perché ci sono delle credenze limitanti legate al denaro il denaro è una forma di energia di scambio non ha nessuna caratteristica di bene o male è semplicemente energia e sta a noi dare valore a quello che noi stiamo facendo se noi vogliamo ricevere una buona formazione ricevere degli insegnamenti validi alle volte dobbiamo essere anche disposti ad investire dei soldi per formarci per per poter studiare con persone che hanno tanta esperienza molto più della nostra e che hanno qualcosa da trasmetterci che poi sarà necessario e fondamentale per il lavoro che andremo a fare noi stessi nel nostro percorso di facilitatori di coach spirituali e di maestri spirituali investire su noi stessi velocizza il nostro percorso evolutivo personalmente ho deciso di investire su me stessa nel 2009 quando ho deciso di partecipare al mio primo seminario di riequilibrio energetico dove ho imparato a sentire per la prima volta le nuove frequenze di luce io benedico ogni giorno gli insegnamenti che ho ricevuto dai miei maestri tutto quello che ho ricevuto da questo seminario è andato oltre le mie aspettative vi ricordate vi ho detto poco prima che a soli tre mesi dal seminario ho facilitato il riequilibrio energetico su mio padre che ha avuto dei risultati straordinari grazie ai suoi risultati ho finalmente compreso qual è lo scopo divino della mia anima ecco i quattro segreti che il 97 per cento dei facilitatori del riequilibrio energetico non conoscono ragazzi queste sono le mie scoperte i miei studi il mio allineamento con l'arcangelo michele le mie preghiere tutto ciò che è che è arrivato attraverso gli insegnamenti di questo angelo meraviglioso vediamo il segreto numero uno allora il segreto numero uno anche le persone empatiche o più sensibili alle energie possono facilitare questo lavoro con le nuove frequenze di luce con la protezione sacra dell'arcangelo michele abbiamo parlato di protezione psichica io non sapevo come fare per proteggermi è stato l'arcangelo michele che è arrivato da me che mi ha mostrato come lui possa intervenire energeticamente nel creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità e mi ha dettato delle preghiere delle preghiere che se affermate o ascoltate ogni giorno veramente ci aiutano a creare questo scudo di protezione invincibile e impenetrabile dall'oscurità diciamo che questa è una traccia della preghiera che io faccio giornalmente bisogna chiedere all'arcangelo michele di aspirare tutte le energie egoiche di paura che potreste aver assorbito dagli ambienti e dalle altre persone bisogna chiedere che siano tagliate tutte le corde tra te e il ricevente che siano elevate le energie vibrazioni e frequenze e che siano sintonizzate nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato che sia creato uno scudo di protezione impenetrabile dall'oscurità e dalle energie più dense così dentro e così fuori naturalmente questa è una traccia io chiedo anche che sia radicata l'energia che siano purificate le nostre intenzioni parole d'azione insomma questa preghiera di protezione ti consente veramente di lavorare con l'arcangelo michele di creare un vero e proprio scudo di protezione naturalmente nei miei percorsi di coaching avanzato verranno date in dotazione tutte le preghiere da utilizzare giornalmente e prima di ogni sessione di riequilibrio energetico segreto numero due meditazione per purificare l'energia in tutto il campo energetico e nei chakras per radicare le energie fino al centro della madre terra anche qua questa è una struttura della meditazione che io utilizzo per purificare i chakra e per radicare l'energia l'energia a partire dal dodicesimo chakra l'energia del sé superiore discende sempre più giù sempre più giù fino ad arrivare al settimo chakra della corona va a purificare il terzo occhio eliminare tutte le immagini distorte della realtà va ad arrivare fino al chakra della gola affinché vi sia una comunicazione una comunicazione dal cuore una comunicazione animica una comunicazione dove io posso esprimere la mia verità vanno purificate il chakra della gola scusate della del cuore quindi l'apertura del cuore il perdono lasciare andare il risentimento il dolore la sofferenza ecco che poi tutti i chakra vengono purificati si scende fino al terzo chakra il secondo chakra il primo chakra fino a radicare l'energia fino al centro della madre terra ecco che questa meditazione di purificazione quando viene affermata giornalmente o ascoltata giornalmente veramente arriva una vera e propria trasformazione nel campo energetico la persona si sente molto più radicata la terra più centrata più lucida più connessa con la propria anima e con la propria verità naturalmente nei miei percorsi di coaching verranno date in dotazione dotazione tutte le preghiere da utilizzare giornalmente e prima di ogni sessione andiamo a vedere il segreto numero 3 questo è un segreto potentissimo processo di liberazione per sciogliere i voti e liberarsi da tutto ciò che ho posto all'amore allora vorrei precisare che queste preghiere le potete trovare nel mio sito connessione angeliche punto com vedete qua c'è il nome del mio canale youtube connessioni angelica ci sono tutte le preghiere su youtube le trovate in formato audio e invece sul mio sito le trovate sia in formato audio che in formato pdf questo vi dà la possibilità veramente di lavorare su voi stessi il processo di liberazione la preghiera più potente che io abbia mai scritto è una preghiera di liberazione nel vero senso della parola ci libera dai patti dagli accordi dalle promesse dai voti fatti in questa vita nelle altre vite che stanno limitando la nostra vita sulla terra la nostra massima affermazione sulla terra stanno impedendoci di compiere il nostro scopo divino per il quale siamo nati ci stanno magari causando delle interferenze magari c'è della negatività nella nostra vita magari ci sono delle energie troppo dense che non ci consentono di stare bene magari abbiamo avuto dei veri e propri attacchi psichici diciamo che questo processo liberazione è una preghiera veramente veramente completa che se fatta tutti i giorni può liberare il nostro campo energetico la nostra vita la nostra anima l'intero nostro essere in questa vita nelle altre vite in tutti i sistemi di realtà in tutte le dimensioni e in tutte le direzioni del tempo spazio abbiamo il segreto numero 4 allora il metodo di logo ceiling per cambiare il proprio mindset legato all'energia monetaria altri blocchi e paure allora logo ceiling nasce dalla logo sintesi di william lamers io personalmente utilizzavo la logo sintesi per liberarmi da dei blocchi delle paure e così via e mentre utilizzavo queste tre frasi potentissime di liberazione l'arcangelo michele mi ha fatto canalizzare delle frasi più complete per questo è nato il lavoro di logos healing ossia il potere della parola che guarisce guarisce da cosa libera dai blocchi libera dalle paure libera i sistemi di credenze limitanti libera dai traumi del passato libera dai pensieri negativi diciamo che ci aiuta veramente ad allinearci ad allinearci al nostro pieno potere alla nostra anima la nostra gioia del cuore possiamo utilizzarlo come dico qui nel video per sbloccare l'energia monetaria perché possiamo eliminare tutti i sistemi di credenze limitanti che abbiamo visto prima legati ai soldi ma possiamo veramente lavorare in tutti gli aspetti della nostra vita ok logo ceiling ripeto una modalità molto potente che in grado di eliminare le credenze limitanti molto velocemente per cambiare il proprio mindset il proprio rapporto tra i soldi e la spiritualità tra il dare e il ricevere nei miei percorsi di coaching insegno questa modalità per aiutare i miei studenti a cambiare il proprio rapporto con i soldi libertà finanziaria quello che ti ho mostrato fino ad ora è l'intero processo ora potresti chiederti posso facilitare il riequilibrio energetico anche se mi trovo lontano dalla persona solo le persone sensibili si devono proteggere dove posso imparare tutte queste cose posso facilitare il riequilibrio energetico anche se la persona interessata non lo sa io non sono religioso l'arcangelo michele mi protegge lo stesso hai due opzioni prendere queste informazioni e applicarle da solo da sola oppure lavorare a stretto contatto con noi nel nostro nuovo percorso di coaching online della durata di due mesi esattamente nove settimane per imparare a connetterti con le nuove frequenze di luce con l'arcangelo michele e ricevere vere trasformazioni in tutti i livelli fisico mentale emozionale e spirituale per te e per i tuoi clienti ecco cosa faremo insieme imparerai ad accedere alle nuove frequenze di luce in maniera semplice naturale già dalla prima sessione imparerai a giocare con le frequenze iniziando a riconoscerle e facendole diventare parte di te faciliterà il riequilibrio energetico sulle altre persone riceverai il riequilibrio energetico dalle altre persone imparerai il riequilibrio energetico con gli occhi attraverso lo sguardo imparerai il riequilibrio energetico con l'utilizzo di una foto imparerai il riequilibrio energetico col tocco imparerai il riequilibrio energetico a distanza imparerai l'autotrattamento imparerai a facilitare il riequilibrio energetico a più persone contemporaneamente imparerai il riequilibrio energetico di liberazione imparerai tutto sulla protezione e molto altro ancora prima di parlarti dell'investimento bonus gratuiti bonus numero 1 protezione psichica sessioni di coaching aggiuntive dove verrà spiegato tutto sulla protezione psichica e verrà dato in dotazione tutto il materiale necessario anche quando finirà il percorso di coaching valore 500 euro lezioni aggiuntive che faremo insieme imparerai perché proteggerti chi è l'arcangelo michele cos'è la protezione psichica giornaliera cos'è la purificazione il radicamento come elevare le proprie frequenze come ritornare all'equilibrio l'importanza di essere la guarigione quattro preghiere ed una meditazione in formato pdf ed mp3 offerte in dotazione già pronte per avere tutto il materiale necessario anche quando finirà il percorso di coaching bonus numero 2 cambiare mindset lezioni aggiuntive per cambiare il proprio mindset legato all'energia monetaria e ad altri blocchi con l'utilizzo di un sistema innovativo chiamato logo ceiling per eliminare le credenze limitanti ve ne ho parlato prima il valore di questo percorso di 500 euro le lezioni aggiuntive che faremo insieme cambiare mindset per passare al prossimo livello dell'evoluzione con logo ceiling equilibrare il dare ed il ricevere i soldi sono energia benedire i soldi siamo anime incarnate in un corpo fisico materiale aprirsi al ricevere smettere di giudicare la ricchezza dare ricevere nell'amore e riceverete tutti gli insegnamenti dell'arcangelo michele bonus numero 3 come diventare un canale pulito lezioni aggiuntive per imparare ad elevare le proprie frequenze per uscire dall'ego valore 400 euro vediamo le lezioni che faremo insieme lezioni per uscire dall'ego uscire dall'ego superior e dall'ego inferior la trasformazione è indipendente da noi accettare quando i risultati non avvengono come vorremmo noi accettare che non dipende da noi staccarci da un particolare risultato il guaritore guarito diventare un canale pulito essere esempio di amore in terra quindi andiamo a vedere diciamo cosa ottieni da tutto questo abbiamo parlato di un percorso di coaching di due mesi esattamente nove settimane per imparare a lavorare con le nuove frequenze di luce abbiamo visto tutto quello che imparerà in nove settimane il valore è di 1600 euro abbiamo visto il bonus numero 1 tutte le lezioni aggiuntive sulla protezione psichica più tutto il materiale didattico valore 500 euro bonus numero 2 lezioni aggiuntive per cambiare il proprio mindset legato all'energia monetaria con l'utilizzo di un sistema innovativo chiamato logo ceiling per eliminare le credenze limitanti valore euro 500 bonus numero 3 lezioni aggiuntive per imparare a diventare un canale pulito valore 400 euro quindi il totale è di 3000 euro quale sarà l'investimento non sarà di 3000 euro e nemmeno di 2000 euro c'è un'opportunità speciale per te ok quindi abbiamo visto il coaching di due mesi più tutti i bonus per un investimento molto molto più basso rispetto ai 3000 euro rispetto al suo valore effettivo ti starai chiedendo perché lo faccio ci sono due motivazioni numero uno sarai seguita seguito direttamente da me dal mio team e mi serve il tuo feedback per perfezionare questo lavoro motivo numero due cerchiamo nuovi casi studio legati a questo nuovo percorso di coaching così da mostrare la tua testimonianza legata alla tua personale esperienza prossimo passo manda subito la tua candidatura clicca il pulsante qui sotto ed iscriviti devi compilare un questionario e fissare all'appuntamento nel calendario è semplicissimo ed è senza impegno l'unica cosa solo 10 posti disponibili motivo numero uno io ed il mio team lavoreremo direttamente con te e ti dedicheremo tanto tempo motivo numero due nel coaching di gruppo online della durata di due mesi vogliamo darti il massimo delle attenzioni lavorerai a stretto contatto con noi per questi motivi questa opportunità è solo attraverso candidatura motivo a voglio essere sicura che questa sia la migliore soluzione per te motivo b passeremo tanto tempo insieme due mesi e voglio essere sicura che sei una persona seria e che sei allineata agli insegnamenti che sto portando attraverso l'arcangelo michele cattive notizie dovrai agire in fretta dovrai agire in fretta perché accettiamo un massimo di 10 studenti per classe abbiamo bisogno dei feedback il prima possibile inizieremo entro due settimane ma dobbiamo sentirvi uno ad uno e quindi chiuderò le candidature entro pochi giorni non esiste garanzia io ed il mio team ti dedicheremo tanto tempo ed attenzioni e quelle non sono rimborsabili sorpresa speciale solo per chi agisce velocemente solo per chi agisce velocemente ci sarà un extra bonus per chi si candida prima della fine di questo training per chi si candida prima della fine del training quattro sessioni di riequilibrio energetico a distanza facilitate da me oppure da un membro del mio team del valore di ben 600 euro parte ora il countdown quindi pensa bene pensa e agisci in fretta prima della fine del countdown andiamo a vedere velocemente un riepilogo il percorso di coaching di due mesi per imparare a connetterti con le frequenze di luce quindi tutti gli aspetti del riequilibrio energetico a un valore di ben 1600 euro tutte le lezioni aggiuntive sulla protezione psichica più tutto il materiale didattico a un valore di ben 500 euro abbiamo lezioni aggiuntive per cambiare il tuo mindset legato all'energia monetaria con l'utilizzo di logo ceiling per eliminare le credenze limitanti valore di 500 euro abbiamo le lezioni aggiuntive per imparare a diventare un canale pulito valore 400 euro e in più il bonus speciale 4 sessioni di riequilibrio energetico del valore di 600 euro quindi il totale è un valore di 3600 euro però ripeto il costo è molto più basso rispetto al suo valore effettivo quindi per piacere manda la tua candidatura cosicché potrai vedere se questo è il percorso adatto per te e noi possiamo vedere se tu sei uno studente che è adatto al tipo di insegnamenti che noi stiamo portando non c'è nessun impegno clicca il pulsante qui sotto adesso prima della fine del countdown volevo rispondere ad alcune delle domande che molti studenti mi pongono prima dell'inizio di questo percorso di coaching per due mesi si intende nove settimane si lavorerà due ore a settimana il programma che viene utilizzato è zoom quindi io ogni settimana ti manderò nel poveriggio un link che tu cliccherai normalmente il percorso, l'orario che viene scelto dalla maggior parte delle persone è la sera verso le sette, sette e mezza di sera d'estate anche le otto e le nove di sera lavoreremo per due ore a settimana ma queste due ore non sono due ore dove pettineremo le bambole saranno due ore dove si lavorerà intensamente con le nuove frequenze di luce quindi ci sono sì degli insegnamenti che verranno trasmessi verbalmente ossia gli insegnamenti dell'arcangelo Michele ma la maggior parte del lavoro è un lavoro interattivo è un lavoro esperienziale quindi tu farai esperienza delle nuove frequenze di luce farai esperienza di logo sealing ok quindi veramente uscirai da questo percorso che sarai perfettamente in grado di facilitare il riequilibrio energetico su te stesso, su te stessa e sulle altre persone e farai tanta esperienza anche con logo sealing ok quindi volevo perché molte persone mi chiedono che differenza c'è tra il riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce e le altre modalità di riequilibrio energetico allora si tratta di un nuovo livello vibratorio che comprende tutte le energie ok benefiche fino ad oggi conosciute ma si espande in un livello molto più comprensivo chiamato luce ed informazione ok quindi è molto più potente di quello che tu già conosci questo non lo dico io ho veramente decine di testimonianze che puoi trovare su youtube sul mio canale youtube connessioni angeliche sono veramente tante le persone che notano questa differenza un'altra particolarità è che queste nuove frequenze di luce sono più potenti con la distanza a differenza delle energie benefiche di altro tipo che sono più forti con la vicinanza nel corpo le nuove frequenze di luce invece si espandono con la distanza ok verrà anche rilasciato un attestato di formazione dall'associazione connessione angelica che attesterà che appunto vi siete formati con Rossella Pani nel percorso di coaching di due mesi ok altre domande quali possono essere ecco molte persone mi chiedono se attraverso il riequilibrio energetico arrivano delle vere e proprie guarigioni e se le guarigioni arrivano per tutti ok io vorrei leggervi questa liberatoria per farvi comprendere che la trasformazione arriva in misura in cui l'anima decide per la persona che riceve il riequilibrio energetico ok quindi il lavoro con le nuove frequenze con l'arcangelo Michele non assicura o garantisce un preciso risultato come la guarigione parziale o completa per tutti coloro che ricevono una o più sessioni di riequilibrio energetico o che partecipano ai seminari o nei percorsi di coaching online da malattie importanti come tumori sclerosi multipla artriti paralisi cerebrali malformazioni o altro ma il cambiamento vibrazionale del campo energetico della persona che interagisce con le frequenze può portare miglioramenti consistenti e beneficio nello stato dell'essere ok ciò non è prevedibile e può presentarsi sotto una forma diversa da quella che ci aspettiamo è sempre l'anima a decidere qual è il massimo bene della persona bene care anime infinite io spero di essere stata esaustiva io vi aspetto aspetto che vi candidate mi raccomando cliccate il pulsante mettete i vostri dati prendete appuntamento nel calendario e ci vediamo dall'altra parte non vedo l'ora di conoscerti non vedo l'ora di parlare con te non vedo l'ora di di iniziare questo percorso insieme un abbraccio grande a presto Rossella ciao ciao ciao